Come ogni giovedì torna puntuale 31 minuti, l'appuntamento è questa sera alle ore 22 su Rete8 con l'acqua alla gola, questo è il titolo che abbiamo scelto per la puntata di questa sera, i video e le foto di Valencia sommersa dall'acqua ci colpiscono e ci fanno paure, allora ci siamo chiesti se questo potrebbe accadere anche in Abruzzo, ne parliamo con il climatologo dell'Università d'Annunzio Piero Di Carlo e parliamo del rischio idrogeologico che è elevato in Abruzzo con il direttore regionale della protezione civile Mauro Casinghini e cosa c'è dietro le alluvioni? C'è davvero tanto cemento, allora siamo tornati indietro nel tempo per capire se gli allarmi lanciati negli anni 90 sono stati raccolti oppure no e poi parleremo di una cosa che ci piace tantissimo e ci ne orgoglisce di fronte a ogni emergenza, il ruolo e il cuore grande dei volontari, abbiamo parlato con loro e vi racconteremo quanto impegno ci mettono per assistere la popolazione che è vittima dei disastri e allora vi aspettiamo questa sera alle ore 22 su rete 8 con 31 minuti